Il prato, come del resto tutto il giardino, ha bisogno di costante manutenzione per poter essere in salute e al massimo del suo splendore. La manutenzione richiede fatica insieme a volontà e passione che nel tempo però daranno grandi soddisfazioni per le condizioni del vostro angolo verde. Mantenere il prato è un'operazione che richiede molta costanza e dedizione. I tempi della cura sono naturalmente diversi dal luogo a luogo, dal momento che il clima ha una forte influenza sul tipo di resa che avrà il proprio manto erboso. La scelta del prato e dell'effetto che si intende ottenere è fondamentale, al di là di quelle che sono le nostre preferenze, non ci si potrà esimere dal valutare anche la zona climatica e la cura che si è disposti ad avere del manto erboso, senza trascurare il tipo di impiego al quale si andrà incontro. Esamineremo una per una le varie tecniche con le quali si può mantenere il prato in condizioni ottimali, dall'irrigazione al falcio dell'erba, fino alla concimazione e ai trattamenti diserbanti, senza dimenticare arieggiatura e cambio delle zolle danneggiate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS